Scuole deserte per presenza di familiari, di persone isolate, persone che non sono malate, sottolineano gli esperti a RAID. Si parla di coronavirus, la psicosi dilaga. L'invito, a quanti hanno dubbi, a contattare il numero 1500 del Ministero della Salute per ricevere risposte. In queste ore, a far fronte alle pressioni, sono soprattutto i sindaci, massime autorità sanitarie locali. Da un lato, tagliati fuori da ogni attività o decisione, demandata alle istituzioni sanitarie. Dall'altro, punto di riferimento della comunità, oltre che responsabili per norma. E quindi che fare se si ha notizia di persone, italiane o cinesi, che tornano dall'Asia? La risposta non è semplice. L'isolamento è consigliato a scopo precauzionale, ma se non ci sono sintomi di tosse, raffreddore, starnuti, febbre, e se sono trascorsi ormai 15 giorni, tempo oltre modo rassicurante per l'incubazione, non c'è bisogno di fare altro. La criticità emerge dopo il transito in aeroporto, ai porti, dove, misurata la febbre, si riceve il via libera. Basta? Credo che un censimento vada fatto sul territorio, acquisendo informazioni di vario genere. Quindi, proprio per il ruolo, per la carica che... c'è uno scaricabarile, ha notato uno scaricabarile? Sa, in Italia spesso il punto è, non è preveniamo e curiamo, ma facciamo in modo che la responsabilità sta altrove da me. Più che uno scaricabarile, la difficoltà che trova il sindaco quando si trova di fronte a una questione nuova è quella di non sapere chi chiamare. Questo è il punto. A raid l'infettivologo Acone rassicura difficile che l'epidemia si diffonda in Italia con grossi numeri e tuttavia il peggio, ossia il picco non è ancora arrivato. Meglio farsi trovare pronti, anche con protocolli. Noi, epidemie importanti non ne avremo. Avremo altri casi, ma noi abbiamo grandi epidemie. Però il problema è uno solo. Noi dobbiamo prepararci al peggio, che sicuramente non verrà. Per prepararci al peggio, se questi protocolli sono stati avviati, darsi una mossa e farlo in più breve tempo possibile. Se non sono stati preparati, avviarli e farlo nel minor tempo possibile. Anche per rassicurare tutti i pazienti, la cittadinanza, i sindaci, i medici di medicina generale, i quali molte volte sono quelli che hanno il primo impatto e debbono sapere a chi rivolgersi, come, quando e perché.